Una festa della fede scandita dall'entusiasmo e dalla riflessione. I partecipanti al pellegrinaggio della famiglia di Schoenstatt hanno abbracciato Papa Francesco e ne hanno ascoltato con attenzione le parole. Un dialogo di panatosi attraverso cinque domande, durante il quale il Pontefice ha parlato di famiglia, della Vergine Maria, del compito dei giovani oggi nel mondo, dell'ascolto di Dio oltre le tentazioni e della Chiesa che si rinnova nei secoli attraverso la santità. Ai numerosi membri del movimento cattolico tedesco convenuti a Roma in occasione della celebrazione del primo centenario della loro fondazione, Papa Francesco ha anzitutto ricordato che la Chiesa cresce per attrazione attraverso la testimonianza e che un cristiano non può essere orfano perché ha una madre, Maria, a cui può sempre rivolgersi. Oggi sono tante le tentazioni lungo il cammino, ecco perché è fondamentale essere sempre centrati su Gesù e sul suo esempio, uscendo verso le periferie e senza mai dimenticare di pregare con coraggio, promuovendo una cultura dell'incontro. Parlando poi della famiglia, sulla scia del recente sinodo straordinario, Papa Francesco ha dichiarato che oggi il matrimonio e la famiglia sono sotto attacco e che non si può ridurre il sacramento del matrimonio ad un rito sociale. Ci si sposa per sempre, aggiunto, anche se oggi nel mondo prevale una cultura del provvisorio che tende a distruggere i vincoli e a generare solitudine.